Immaginatevi essere disabili in un paese che si aspetta che tutti i cittadini siano conformi a un determinato standard. Queste persone dovevano essere appunto cancellate dal mondo per poterlo purificare. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di oggi è veramente veramente scioccante, triste e la collegherò anche un video che farò sulla cultura giapponese e il modo in cui spesso vengono trattati le persone disabili in Giappone. Perché è una questione estremamente importante che non va presa alla leggera e che forse proprio il modo in cui queste persone sono trattate può essere stata una delle cause che ha portato a questo episodio veramente tragico. Il caso di cui andremo a parlare oggi è quello di Satoshi Uematsu. Questo uomo ha strappato la vita a 19 vittime e ne ha ferite molte altre. Le ragioni appunto che hanno portato a questo caso possono forse essere ritrovate come vi dicevo nella storia del Giappone. E io spero davvero che questo caso, per quanto terribile, possa portare dei cambiamenti e sensibilizzare le persone su determinati argomenti. Per poter parlare al meglio di questo caso devo fare un piccolo, diciamo, resoconto del contesto che tratterò in modo un po' veloce su questo canale perché il focus di questo video sarà questo caso criminale. Ma sul mio altro canale andremo a parlare di come le persone disabili vengono trattate in Giappone. Prima di iniziare vi chiederei di lasciare un mi piace a questo video. Se volete altri contenuti come questo mi aiuterebbe veramente moltissimo a far crescere questo canale e mi farebbe piacere vedere cosa ne pensate. Quindi se mi lasciate un commento gradirei moltissimo. Pubblico nuovi video su questo canale ogni lunedì e ogni giovedì a luna di pomeriggio. Quindi spero di vedervi numerosi. Mi raccomando, accendete la sveglia. Il Giappone è un paese come nessun altro. Questa è una di quelle frasi che si dice molto spesso. Un paese veramente meraviglioso che cerco sempre di descrivervi nel meglio delle mie possibilità su questo canale. Ha dei panorami bellissimi, un sacco di cultura. È un paese che non ha abbandonato le tradizioni ma che comunque vive nella sua modernità. E è veramente facile perdersi nelle meraviglie che questo paese può offrire. Tuttavia in Giappone non è tutto oro quello che brilla. Infatti purtroppo ci sono dei lati un po' più scuri che andrò a toccare in questo video. Sicuramente se vi sarà capitato di andare in Giappone o di sentire storie di persone che hanno visitato il Giappone vi verrà detto quanto si sono trovati bene, quanto sono stati trattati bene, quanto i giapponesi siano gentili eccetera eccetera. Tuttavia per poter garantire un tale standard in Giappone è veramente importante sapersi uniformare la massa. Spesso cercano un po' di fare quello che la società si aspetta da loro. Ho parlato anche con Erico in qualche video, sapete c'è una certa età per poter finire le scuole superiori. Finite le scuole superiori bisogna fare bene l'esame per entrare nell'università. Finiti gli anni dell'università si entra in una company. Tra l'altro si già sceglie il lavoro nell'ultimo anno di università. E questo più o meno è il processo che il 95% dei giapponesi segue. Le cose negli ultimi anni stanno cambiando. Tuttavia questo è un lato della società che ancora permane in Giappone. Questo tentativo comunque di tutte le persone all'interno della società del cercare di uniformarsi ha dei grossi benefici. Per esempio il Giappone ha un basso livello di criminalità. E questo è dato sicuramente da questa caratteristica della società giapponese. Così come sui posti di lavoro, nelle scuole e in molti altri ambienti. Tuttavia questo tentativo comunque di uniformarsi ha dei costi. Infatti questo crea delle forti pressioni a molti giapponesi. E purtroppo ci sono alcuni che scelgono di togliersi la vita. E questo è un problema che più o meno colpisce molti giapponesi. Ma immaginatevi essere disabili in un paese che appunto si aspetta che tutti i cittadini siano conformi a un determinato standard. Immaginatevi le pressioni che queste persone potrebbero soffrire. E purtroppo il Giappone diciamo che non è proprio un paese che offre un grande supporto per le persone disabili. Io pensavo quando camminavo sulle strade giapponesi vedevo spesso le scale mobili per i disabili, gli ascensori, anche per esempio tutti i marciapiedi per le persone che non vedono. Ci sono delle specie di piastrelle, come non saprei definirle, però gialle, che permettono ai non vedenti di poter camminare sulle strade. Tuttavia dopo aver appunto parlato con persone che hanno dei problemi comunque di disabilità, ho scoperto che il Giappone su alcune cose è molto indietro. Anche l'Italia in realtà è molto indietro rispetto ad alcuni paesi, soprattutto nel nord Europa. Però anche il Giappone pur essendo così moderno, anche un'economia che funziona più che bene, è triste che non ci siano ancora tutte le fastidieti che dovrebbe avere per poter garantire anche a queste persone di poter vivere al meglio. Ne parlerò meglio comunque nell'altro video in cui vi farò vedere anche delle piccole interviste ad alcune di queste famiglie. Tra l'altro da alcuni sondaggi è emerso questo dato che mi ha alquanto rattristato, il fatto che se siete delle persone disabili e siete su una sedia a rotelle, avrete il 27% di possibilità in più di essere rifiutati da un taxista. Ci sono anche delle famiglie che si vergognano di avere un figlio o un parente disabile e quindi cercano di nasconderlo dalla società. Questo ovviamente non capita in tutte le famiglie, però ho letto veramente moltissime storie di giapponesi, lette tra l'altro in giapponese, che appunto si sono sentiti come rifiutati dalla società, non tanto per la società in sé, ma per come le loro famiglie li facevano sentire e come li trattavano. Ma questa questione risale a molto tempo prima della Seconda Guerra Mondiale. C'era questo tentativo del governo di, virgolette, purificare il Giappone e per poterlo purificare praticamente ha scelto di sterilizzare 25.000 disabili, 16.000 di loro contro la loro volontà. Questa legge è andata avanti in realtà fino al 1996, anche se la maggior parte delle persone che è stata sterilizzata è stata sterilizzata nel primo decennio di questa legge. E potete capire come comunque questa legge abbia contribuito a potenziare magari possibili comportamenti discriminatori. E questo ci porta alla storia di oggi, successa nella città di Sagamihara, a 40 km da Tokyo. Questa città ha una popolazione di 720.000 abitanti e è la terza città più popolosa della prefettura di Kanagawa. E' proprio qui che viveva Satoshi Uematsu, questo ragazzo qui. E' nato il 20 gennaio del 1990. Suo padre era un insegnante delle scuole elementari e insegnava arte, mentre la sua madre disegnava dei cartoni. All'età di un anno la sua famiglia si spostò appunto da Tokyo, dove era nato questo bambino, in quella città a 40 km da Tokyo. Proprio in quella città Satoshi ha fatto le scuole elementari, in seguito si è iscritto alle scuole medie. E era famoso, diciamo, nella sua classe per essere un ragazzo che sapesse intrattenere, sapete, un po' al burlone, quello un po' simpatico del gruppo. E era anche un grandissimo appassionato di basket. Tuttavia, quando iniziò ai superiori, poterono notare che c'era un piccolo cambiamento nel suo atteggiamento e era diventato un pochino sempre più ribelle. Infatti fu anche scoperto mentre faceva dello shoplifting, quindi prendeva delle cose nei negozi senza pagarle. E inoltre era anche stato trovato danneggiare delle proprietà mentre era sotto stato di ebrezza. In ogni caso, il suo comportamento più grave era stato registrato nel 2007, quando sembra che abbia spinto una persona disabile per avere praticamente intranciato la sua strada mentre lui stava andando a scuola. Benché avesse assunto questi comportamenti, non ebbe particolari ripercussioni e andò a frequentare poi in seguito l'università. Quello che lui aveva tentato di fare era diventare anche lui, come suo padre, un insegnante. È stato proprio intorno a questo periodo che i genitori di questo Satoshi tornarono a vivere in un condominio di Tokyo, lasciando il ragazzo Satoshi nella vecchia casa che era diventata il suo spazio personale. Ci sono un sacco di speculazioni che dicono che in realtà Satoshi e i suoi genitori continuavano a litigare e per questo motivo i genitori hanno scelto di andare a vivere in un altro appartamento perché non ce la facevano più a rimanere in quella casa. E sembra che il momento di rottura di questa relazione tra il genitore e questo figlio sia stato quando si sia fatto questo tatuaggio gigantesco sulla schiena. E ragazzi, ne ho parlato anche da uno dei miei primi video quando parlavo dei tatuaggi in Giappone. Sapete che a livello comunque storico i tatuaggi sono visti in un certo modo in Giappone e quindi il fatto di avere un tatuaggio può essere molto problematico perché è associato in qualche modo alla Yakuza. Dovete sapere che questa cosa dei tatuaggi già nel 720 erano considerate una specie di marchio che veniva fatto sui delinquenti. Veniva fatto il tatuaggio di un cane proprio sulla testa di questi criminali. Negli anni a venire, negli anni più recenti, questi tatuaggi sono stati adottati sempre di più dalle famiglie di criminali e erano viste come una forma di coraggio e di lealtà rispetto alla loro gang. E anche se l'immagine comunque dei tatuaggi è stata un po' sdoganata negli ultimi anni, per molte famiglie, specie quelle meno aperte magari a tatuaggi eccetera, sono ancora visti come un qualcosa di sbagliato o sporco, non so come dire. Però in realtà ci sono anche delle famiglie in Italia che la vedono così. Io mi ricordo che aveva fatto una story Elisa True Crime proprio al riguardo in cui qualcuno le aveva detto di coprirsi il tatuaggio perché non voleva che sua figlia lo vedesse come una cosa normale. Quindi capite, cioè è una cosa che sembra così strana per noi italiani, ma in realtà anche in Italia ci sono ancora persone che sono un po' bigotte su certi argomenti. Questo Satoshi nel 2012 concluse i suoi studi universitari e cercò, come vi ho detto, di trovare impiego come insegnante delle elementari o almeno come tatuatore, ma fallì nel cercare entrambi questi lavori. In ogni caso riuscì a trovare un lavoro part-time presso questa Tsukui Lily Garden che era questa facility in cui c'erano una serie di persone disabili e sembra che durante il colloquio di lavoro sia stato assunto dopo che ha detto che lui trovava le persone disabili piuttosto cute. Cioè cute, questa è stata la risposta. Io non l'avrei assunto uno che mi dice così, scusa, le persone disabili non è che sei now cute, le persone disabili sono persone come tutte le altre, cioè, boh, vabbè. In ogni caso non lo so in che modo l'abbia detto, però Kawaii lo dice di un animaletto, non lo dice di una persona solitamente. Satoshi lavorò duramente e riuscì a essere promosso a tempo indeterminato in quella facility. Era considerato come un lavoratore serio, brillante, pieno di energia e che aveva una grande carriera davanti a sé. Tuttavia, nel corso degli anni il suo atteggiamento iniziò a cambiare. Nel 2014 e nel 2015 fu praticamente scoperto mentre colpiva delle persone disabili e sembra anche che sia stato filmato dalle telecamere di sorveglianza. E nel febbraio del 2016 per questi comportamenti è stato licenziato. Purtroppo questa non sarà l'ultima volta che Satoshi farà visita in questa facility. Spostiamoci adesso a Tokyo. Al 15 febbraio del 2016. A solo due settimane da quando appunto questo Satoshi era stato licenziato. In quella giornata Satoshi si era recato a Tokyo proprio per poter dare una lettera a questo personaggio politico molto importante che era Taramori Oshima che era il presidente della Camera dei Rappresentanti giapponese. E questa lettera praticamente sarà uno dei più eclatanti segnali di un comportamento estremamente malato di questo Satoshi. Si trattava di una richiesta da parte di Satoshi che chiedeva appunto a questo personaggio politico la legalizzazione di poter porre fine alle persone disabili e che secondo lui queste persone dovevano essere appunto cancellate dal mondo per poterlo purificare. Veramente io quando sento queste cose mi viene di una tristezza che non avete idea. E praticamente ha detto che questo avrebbe fatto solamente del bene al mondo e anche all'economia giapponese e se il mondo sarebbe stato liberato da queste persone si sarebbe potuta evitare una possibile terza guerra mondiale. Comunque in questa lettera c'erano scritte una serie di dettagli su come avrebbe voluto muoversi di lì a poco per poter attaccare queste facility che ospitavano queste persone disabili. C'era tutto un piano bello dettagliato in questa sua lettera. Inoltre ha detto che lui si sarebbe proposto come volontario per poter portare a compimento questa missione di purificare il Giappone o in generale il mondo. Ha detto che lui si sarebbe appunto offerto per recarsi in queste facility e togliere la vita a queste persone e che le persone che lavoravano lì sarebbero state legate in modo che non interferissero ma che tuttavia a quelle persone che lavoravano in queste facility non sarebbe stato arrecato nessuna ferita o danno. E una volta conclusa la sua missione sarebbe andato alla polizia. Vi leggo adesso la frase con cui lui ha terminato questa sua lettera dicendo «Questo è il momento in cui dobbiamo portare avanti una rivoluzione. È il momento in cui dobbiamo fare delle decisioni difficili per il bene del mondo e per il bene dell'umanità». E fermò questa sua lettera con il suo nome. La lettera fu portata alla polizia e il 19 febbraio Satoshi fu preso dalla polizia e interrogato. E l'uomo praticamente volontariamente si fece imprigionare in un ospedale psichiatrico. Ovviamente il suo comportamento era completamente immorale e quello che lui voleva fare non era il comportamento di una persona normale. Tuttavia sembrava che questo ospedale psichiatrico sarebbe stato in grado di riportarlo sulla retta via diciamo. La facility in cui questo Satoshi stava lavorando fu avvisata di questo suo comportamento e ci rimase veramente di sasso. E soprattutto erano spaventati di un possibile attacco di questo uomo. E nel tentativo di poter proteggere meglio le persone appunto che ospitava questo edificio installarono una cosa come 16 telecamere sia all'interno che all'esterno della facility. La permanenza di Satoshi all'interno dell'ospedale psichiatrico durò solo due settimane e il 2 marzo poté uscire. Dal momento che non era ritenuto un pericolo per la società. Tuttavia questa decisione porterà a un finale estremamente tragico. Il 25 luglio del 2016 Satoshi si recò a Tokyo con l'autobus per ritirare la sua auto dalla residenza di famiglia. E ha anche preso una serie di coltelli e successivamente si è recato in un negozio di articoli per la casa dove ha acquistato vari articoli tra cui un martello. Satoshi si è poi recato in una stanza che ha preso in affitto a Shinjuku, si è tinto i capelli di biondo e poi è andato a fare cena con una donna. L'uomo raccontò a questa donna del suo piano e della lettera. Ma la donna non lo prese troppo sul serio pensando che si trattasse quasi di uno scherzo e quindi non era troppo interessata a quello che aveva da dire. Tuttavia 4 ore più tardi, all'1.37 per l'esattezza, una delle telecamere di sorveglianza filmò praticamente questa onda nera avvicinarsi alla facility dove in passato Satoshi lavorava. La macchina ovviamente era quella di Satoshi e di lì a poco si può vedere sempre nel filmato della telecamera Satoshi uscire dalla vettura. Prese con sé anche dei coltelli e riuscì a penetrare in questo edificio entrando da questa finestra. Ovviamente Satoshi aveva lavorato in precedenza lì, quindi sapeva bene come era fatto l'edificio e questo fu un grosso vantaggio per lui per potersi muovere in modo più libero all'interno di questa facility. Infatti riuscì a entrare nell'edificio e passare quasi inosservato. Nessuno infatti aveva sentito nemmeno che quella finestra era stata rotta. Riuscì a catturare uno del personale, lo imbavagliò e legò e gli rubò la chiave. Questa chiave gli avrebbe dato accesso a praticamente tutte le ale all'interno di questo Lily Garden e quindi poteva muoversi in qualsiasi stanza lui desiderasse. E questo Satoshi iniziò a entrare in tutte le stanze una a una e a coltellare a morte, purtroppo, tutte le persone disabili che poteva trovare. Tra l'altro era notte fonda e molti di loro stavano ancora dormendo. Una volta terminato questa sua missione, tornò alla macchina senza essere nemmeno notato a verso le 2.50 e riuscì a evadere da quell'edificio passando praticamente inosservato. Evitò sia il personale, a parte il primo, vabbè, quello a cui ho preso le chiavi, e anche la sorveglianza. E quando entrò nella sua vettura postò questa immagine sul suo Twitter dicendo Per la pace nel mondo, bellissimo Giappone. Quando scoprirono quello che era successo, 29 ambulanze furono mandate a questo Lily Garden, anche se in realtà non c'era nulla da fare per la maggior parte delle persone che Satoshi attaccò, tutte purtroppo erano già decedute. Satoshi, in ogni caso, non cercò di scappare dalla polizia, anzi, fu proprio lui che due ore più tardi che aveva postato quella foto su Twitter, si recò alla polizia e disse quello che aveva fatto. Portò anche tutti i coltelli che aveva utilizzato e disse anche che era stato lui a scrivere quella lettera. La storia è veramente triste perché un totale di ben 19 persone sono decedute in quel Lily Garden e tra l'altro ben 26 pazienti sono stati trovati feriti. 14 di loro feriti gravemente. Satoshi fu spostato in una prigione di massima sicurezza e qua si possono vedere anche dei filmati di questo trasferimento. Guardate come sembra sorridere a queste telecamere. E tra l'altro, ragazzi, una di quelle cose che ha fatto veramente arrabbiare, che è veramente frustrante se ci pensate perché, come vi ho detto, com'è possibile che hanno installato ben 16 telecamere nel Lily Garden e nessuno abbia notato quello che stava succedendo prima o l'avesse potuto fermare. E sembra che queste telecamere erano state posizionate in vari punti, comunque all'interno della facility, ma non c'era nessuna persona detta a revisionarle. A cosa servono delle telecamere se nessuno è lì a guardarle? E a poter evitare che delle situazioni del genere possano succedere. Un'altra cosa veramente triste è che pensate che le famiglie di queste persone disabili per ben 10 giorni non hanno potuto sapere se il loro parente fosse o meno venuto a mancare perché tutte le informazioni relative a questo caso sono state tenute comunque all'oscuro per 10 giorni. Potete capire come questa storia sia stata veramente inusuale, soprattutto in Giappone, in un paese in cui la criminalità è così bassa. In molti paesi un attacco del genere sarebbe stato descritto come un hate crime, quindi un crime fatto perché sono odiate le persone per alcune determinate caratteristiche. Possono essere l'etnia, il colore della pelle magari, piuttosto che l'orientamento sessuale, o persone con disabilità come in questo caso. Tuttavia in Giappone questo non è stato percepito, comunque non è stato registrato come un hate crime, ma solamente come un crimine come tanti altri, come una strage di un pazzo. Il fatto che Giappone non abbia segnalato questo caso per quello che realmente è, perché è sicuramente un hate crime, è secondo me una cosa un po' triste, perché sembra che nessuno dei report e neanche gli ufficiali, nessuno abbia mai nominato la parola hate crime. Questo crime non è stato assolutamente considerato come un qualcosa che qualcuno ha commesso perché odiava delle persone diverse da lui. E tra l'altro pensate che tutte queste persone che hanno perso la vita in questo massacro, nessuna dei loro nomi è stata dichiarata ai media. Magari molti di voi potete pensare che questo potrebbe essere una forma di rispetto per garantire la loro privacy, ma sembra che invece siano state molte di queste famiglie che hanno scelto che il nome di queste persone non sia rivelato al pubblico. Forse perché in qualche modo si vergognavano di avere un parente appunto disabile. Immaginatevi vivere in una società in cui ci sono persone che non vogliono che la società scopra o diciamo sappia che i loro amati parenti siano disabili. In ogni caso il 20 febbraio del 2017 Satoshi era stato giudicato finalmente mentalmente competente per essere processato e quindi il processo andò avanti. La difesa tentò di dire che in quel momento Satoshi non era mentalmente competente perché era sotto l'effetto della marijuana e quindi questo era il motivo per cui si era comportato in quel modo. Durante il processo sembra che le persone che erano in corte hanno detto che Satoshi non sembrava assolutamente dispiaciuto per quello che aveva compiuto e non sembrava mostrare nessun senso di rimorso benché sembra che lui abbia detto che sia dispiaciuto per le famiglie delle vittime non per le vittime insieme ma per le loro famiglie e dopo aver chiesto scusa pensate che si è anche morso il dito strappandoselo per mostrare quanto fosse pentito. Non lo so ragazzi non è una persona normale non si comporta in modo normale quindi non chiedetemi perché l'abbia fatto. In ogni caso benché avesse fatto questa azione sembra che non avesse nessun significato dal momento che durante il processo lui continuava a dire che secondo lui le persone disabili non avevano alcun diritto alla vita. Dopo veramente un agonizzante processo lunghissimo finalmente la sentenza fu emessa e è stato considerato comunque colpevole di aver ucciso 19 persone e aver tentato di ucciderne 24 e considerano le sue azioni completamente disumane e fu condannato alla pena di morte dalla corte di Yokohama. In ogni caso in questo momento Satoshi è ancora vivo e in questo momento si trova nel braccio della morte. Nessuno sa quando il giorno arriverà dal momento che comunque anche per via della pandemia questa data è stata rinviata più volte. Mi piacerebbe spendere due parole sulle persone che hanno perso la vita in questo Lily Garden tuttavia non posso perché non è stato dato un nome non è stata fatta vedere nessuna foto nessuno sa chi è sono le loro storie secondo me hanno bisogno di essere ascoltate e i loro nomi hanno bisogno di essere ricordati. Il fatto che queste persone non siano state mai rivelate al pubblico le ha un po' come spogliate di quello che era il loro valore come persone e anche è tolto via dell'attenzione importante che questo caso si sarebbe meritato di ricevere benché ne abbia ricevuto fin troppo ma è come se i media si siano tutti concentrati sull'assassino e meno sulle persone che purtroppo sono state assassinate. Non ci sono stati enti di beneficenza articoli che parlassero di queste famiglie o delle hashtag su Twitter per dire non ci sono state nessuna campagna nulla di tutto ciò. La storia in sé di per sé è anche sparita abbastanza velocemente magari molti di voi non avevano mai sentito parlare di questa storia benché nel senso la scelta di queste famiglie dovrebbe essere rispettata secondo me lo stigma che il Giappone purtroppo ha verso queste persone disabili rimane e non va preso alla leggera e purtroppo io ho il presentimento che questo atteggiamento è sicuramente stato una delle ragioni che ha preso parte in questo caso forse è stata proprio la ragione che ha portato questo Satoshi a compiere questo atto così spregevole. Successivamente a questo caso in ogni caso il Giappone ma non solo il Giappone un pochino tutto il mondo ha cercato un pochino di sensibilizzarsi su determinate questioni per evitare che situazioni del genere si ripetano tuttavia solo il tempo può dirci in che modo la società giapponese si muoverà di qui in avanti e se queste situazioni miglioreranno non lo so vorrei dire adesso due parole a fine video prima di lasciarvi mentre leggevo di questa storia ogni tanto mi chiedevo ma immaginatevi se questo serial killer non lo so invece che di dargli che ne so la pena di morte fosse stato reso paralizzato cioè mi chiedo se sarebbe tolto la vita cosa avrebbe fatto immaginatevi una persona che tanto disprezza le persone disabili se si fosse ritrovato nelle loro scarpe io sarei veramente curioso di sapere come questo Satoshi si sarebbe comportato in quella circostanza in ogni caso questa è una storia veramente triste alcune di queste famiglie hanno rivelato i nomi dei loro amati altre purtroppo e molte la maggior parte sono ancora rimaste diciamo all'oscuro condoglianze alle vittime e alle famiglie di queste vittime e noi ci vediamo al prossimo video grazie mille per essere stati con me un ciao da seman ciao 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 ciao